Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale da Michele. Come potete vedere un nuovo modello della CMC, l'azienda tedesca, una Ferrari 250 GT Berlinetta passo corto SWB del 1961 in scala 1 a 18. La novità di oggi è che oltre a questo modello ne presenteremo uno identico ma di colorazione differente, uno giallo e uno rosso. Questo è il rosso e questo è il modello giallo che andremo chiaramente ad aprire. Allora, ho ritenuto più giusto fare solo un video che possa appunto riprendere tutti e due i modelli piuttosto che farne uno per ognuno. Allora, ecco qua, questo è il modello giallo Ferrari 250 Berlinetta passo corto del 61. vi faccio vedere come anche ho fatto negli altri video la descrizione ve la faccio leggere nella brochure che danno su ogni modello così se avete piacere la leggete per chi conosce la lingua è formata da 1141 è composta scusate da 1141 pezzi oltre 1141 pezzi questo modello ecco qui ragazzi voi col fermo immagine potete se avete piacere leggervi tutte quelle che sono le note presenti andiamo un momento a mettere via questo all'interno danno anche questo piccolo fuscolo dove ci fanno vedere come aprire il cofono soprattutto come svitare la ruota di scorta all'interno del modello senza danneggiare nulla sto rimanendo nell'immagine per farvi leggere tutto per quelli che ovviamente conoscono il tedesco e l'inglese va bene allora via questo eccola qua infatti questa è la chiave che danno in dotazione con il colore a tema ovviamente la bella chicca per smontare la ruota all'interno del cofono che andremo posteriore che andremo poi a vedere mettiamola qui il nostro telo non può mancare sempre per poter questa addirittura mi sembra molto più grosso anche degli altri per poter levare le eventuali impronte una volta che lo maneggiamo CMC esclusivo modello modello esclusivo spostiamo anche questo un attimo guardate sempre come dico la cura che hanno quando vanno ad effettuare il confezionamento di queste opere d'arte opere d'arte ragazzi opere d'arte perché di questo parliamo questo è il modello numero 2567 scusate ragazzi avete ragione ecco qui comunque poi andremo a togliere tutto adesso sto cercando solo di fare un po di ordine così portiamo anche fuori il modello rosso ok mettiamo da parte un attimo questo lo prenderemo poi dopo successivamente e andiamo ad aprire lo stesso modello ma rosso il riferimento in questo caso del modello rosso è lo 046 mentre invece di quello giallo è lo 054 e questi sono i permessi che la ferrari dà alla cmc per poter riprodurre i suoi modelli sempre i sali anti umidità un altro telo la chiave rossa sempre rossa sempre rossa di scorta ovviamente rossa perché il modello è rosso ecco qua vediamo anche questa perfetto andiamo ad aprire il nostro modello avviciniamo un po di più vediamo se ce la facciamo così vedete anche meglio non troppo così perché non ci sta poi l'altro modello scusate ragazzi quindi ok ok allora e beh bellissime una e andiamo a prendere anche l'altra questa la mettiamo qui e la gialla guardate che che meraviglia ragazzi mamma mia questa è la 2567 come numero vediamo la chiave poi andremo a vedere il resto ragazzi allora adesso volevo darvi una rapida lettura della storia almeno di questo modello e la fonte è il talent financial advisor club scusatemi come la pronuncia w e wilt che ho trovato appunto su questa testata che è stato scritto da lorenzo magnani il 3 settembre del 2020 dove se avete piacere spero di sì dice che la ferrari 250 gt s wb è la berniletta più bella del novecento da sterling mossa da claire gazzoni molti sono i piloti che si sono innamorati della ferrari 250 gt s wb gli appassionati non sono certo di meno tra corse all'ultimo respiro la delizia dell'artigianato automobilistico italiano il successo di un'auto senza tempo allora vediamo cosa ci dice qui eleganza e sportività mai come allora correva l'anno 1959 e il marchio modenese si presentava al grande pubblico con una vettura che racchiudesse in modo così perfetto chiedo scusa ragazzi stavo dicendo che racchiudesse in modo così perfetto questi concetti il palcoscenico era il paris motor show la protagonista proprio lei la ferrari 250 gt berlinetta passo corto da lì in avanti si sono inanellati una serie di successi tra le curve dei principali circuiti mentre a poco a poco l'immagine di questa berlinetta diventava indelebile nelle menti e nei cuori degli appassionati adesso parleremo dello stile inconfondibile mentre i successi ve ne ho già parlato nel video precedente la bellezza e la funzionalità di questo modello si devono soprattutto a una concezione dell'automobile ancora artigianale se infatti le firme apposte sul telaio e linea sono rispettivamente scaglietti e pini in farina lo sviluppo progettuale fu merito della collaborazione di tre italiani tra bizzarini chiti e foghieri questa coesistenza di anime diverse permise di apportare durante tutto il periodo di produzione piccole modifiche stilistiche e strutturali senza che venisse compromessa l'essenza originaria già nel tardo 1960 si arrivò a una concezione dualistica della berlinetta di fianco al modello da competizione fece la sua apparizione la versione lusso destinata non ad essere la più veloce in pista ma la più osservata nelle vie affollate del centro alla fine anche bertone zagato apportano il loro genio dando vita a esemplari speciali quali chiedo scusa rispettivamente la spider speciale e la 250 gt a naso di squalo così chiamata per il frontale più affusolato ringrazio ancora la talents financial advisor club we e lorenzo magnani per questo servizio grazie poi lo troverete in descrizione sul sito ragazzi cosa posso dirvi posso dirvi che a differenza del modello gt competizione questa aveva 240 cavalli invece che 280 non aveva la carrozzeria in alluminio a differenza della competizione che avete visto nell'altro video non aveva i roll bar non aveva le ruote racing e le candele erano più calde meno fredde ma ovviamente ragazzi sono dei modelli meravigliosi vi chiedo scusa anche perché per il video nel video precedente cioè alla stessa macchina ma da competizione col passo più corto e no passo corto chiedo scusa le hanno tutte stavo dicendo una stupidaggine chiedo scusa non mi sono accorto che non vi ho fatto vedere lo smontaggio dei pneumatici ma vi chiedo scusa allora andiamo a vedere la gialla visto che la rossa bene o male l'avete vista anche prima allora guardate che bella qua abbiamo riporti in acciaio cromato questi ragazzi sono in acciaio cromato ci tengo a sottolinearlo non sono riporti in plastica cromata che sarebbero già belli ma sono in acciaio cromato come questo è acciaio questo è acciaio tutte le parti intorno di finitura acciaio acciaio la maniglia in acciaio non plastica tutte diciamo le non le parabole ma il copri parabole al telaio è tutti in acciaio cromato all'interno troviamo la mascherina che è montata pezzo per pezzo potete andare a vedere i video della cmc montata pezzo per pezzo tutti in acciaio stessa cosa dicasi per i paraurti acciaio poi andiamo a smontarli e stavolta ragazzi le ruote perché vi voglio far vedere l'opera d'arte che c'è qua sotto freni a disco pinza tubi di rame bellissimi paraurti acciaio 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 armitte finali terminale acciaio guardate la scritta ferrari di una precisione disarmante meravigliosa qua tutta la cornice sul vetro in acciaio tappo della benzina guardate soltanto anche sotto la finitura guardate i due ganci metallici a molla se ce la faccio si mette a fuoco si ce l'abbiamo fatta guardate che spettacolo poi vi farò vedere anche la rossa ma parlerò insomma non vi dirò nulla ragazzi perché una volta che vi faccio vedere questa per quello ho deciso di fare un solo filmato di due auto perché sono al di là del colore identiche li ho volute acquistare tutte e due parlo di oltre 20 anni fa perché mi piacevano tutte e due guardiamo sotto e poi andiamo ad aprire le parti per vedere cosa abbiamo sotto il motore questo è sempre un punto che mi affascina oltre al resto le balestre gli ammortizzatori a balestra in acciaio montati come quelli veri guardate che sistema che c'è qua date un'occhiata guardate qua questo è il sistema del freno del pedale questo è il pedale anzi no chiedo scusa questo è sicuramente il freno a mano che dall'interno si tira e funge appunto la funzione sarebbe quella di andare verso qua e tirare questi due cavi che a loro volta vanno a inserirsi nelle due ruote una in ogni rispettiva ruota uno qua e uno qua vedete e frenano chiaramente la ruota quindi cosa vi devo dire ragazzi siamo davanti mi ripeto lo so ma sono opere d'arte opere d'arte che per il prezzo che costano li valgono tutti è vero che non tutti hanno la possibilità di avere la collezione completa io certamente non ce l'ho questa possibilità ma ho preso un po di pezzi quando potevo e sono felice di averlo fatto tubi di rame fascette in acciaio tutte in acciaio che tengono in maniera ordinata il sistema frenante ed elettrico qui abbiamo i vari filtri del serbatoio benzina filtro questo non so che filtro sia perché uno è benzina e l'altro non ho idea scusatemi comunque un filtro va bene andiamo a vedere ecco qua volevo anche farvi notare innanzitutto tutto pelle qua pelle cucita maniglie in metallo sentite ferro contro ferro questo è acciaio acciaio cromato ragazzi il battipiede qui acciaio cromato qui abbiamo un filo nero in gomma che funge da guarnizione intorno al telaio senza parole si fa per dire perché parlo come una macchinetta il volante anche qui potete vederlo sembra di legno sedili in pelle pelle c'è scritto è proprio pelle vera guardate qua all'interno forse potete notare le due cinture di sicurezza del lato dei passeggeri chiedo scusa una e due non so se si vede ci sono andiamo a chiudere qua andiamo ad aprire quest'altra ecco guardate qui abbiamo il posa cenere il metallo arriva dalla marcia ovviamente e tutti i vari strumenti qui all'interno cassettino con la serratura che bello guardate la finizione che c'è qui la finitura il grado di attenzione al particolare io ragazzi quando mi fermo è perché vedo che non è a fuoco e vivo con la speranza che si metta a fuoco per farvelo vedere veramente se no lo vedo solo io bene qui abbiamo appunto lo schema di cui vi parlavo prima del costruttore pin in farina adesso andiamo prima ad aprire il cofano anteriore dopodiché quello posteriore e poi le ruote allora il motore guardate ragazzi non vi dico niente se riesco sto zitto parlano da sole le immagini qui abbiamo sempre la nostra bellissima troppo simpatica borsa dell'acqua del lavavetro ecco vi faccio vedere guardate soltanto la piccola fascetta che quasi non si vede che tiene il tubo dell'acqua a quest'altro metallo qui un altro filo guardate cosa cosa hanno fatto questi sono tubi veri molle veri in acciaio cioè praticamente sembra che giri la chiave e questo motore parte guardate qua tutti i vari adesivi filtro ah ragazzi guardate la molla che c'è qui vediamo se riesco a farvela vedere c'è una molla qui sotto attaccata questa placca metallica in acciaio c'è una molla non so ragazzi se riesco a farvela vedere io nel telefonino vedo tutto buio non so se si vedranno nelle immagini poi questa griglia in acciaio questa questa qua forata qua sotto il filtre è tutto acciaio qui abbiamo l'attacco del manicotti in gomma dal radiatore doppio attacco uno qua e uno qua con tutte le fascette metalliche che tengono come le vere adesivi metallici che riportano tutte le schede del motore andate il radiatore col tubo di rame per il troppo pieno e questo ragazzi guardate l'alternatore con la con la barra che serve per tirare la cinghia e regolarla col bullone guardate ma ma ragazzi ma ragazzi e il filo rosso ovviamente del più è che va all'alternatore quello che poi carica la batteria col movimento delle cinghie mamma mia vabbè andiamo avanti sempre i gommini di battuta questi per evitare appunto che quando come in quella vera quando batte o vi scappa dalle mani si possa rovinare la vernice qui abbiamo sempre il sistema di chiusura in acciaio anche questo guardate come sale e scende all'interno e poi infine no infine no eh se non mi dimentico di nuovo e poi abbiamo queste e poi le ruote da smontare perché stavolta devo ricordarmi di farvele vedere ragazzi non vado adesso a togliere la ruota però vedete all'interno qua abbiamo una croce che si mette qua dentro vedete ecco io adesso avvito o svito e tirerei di alla ruota non lo faccio qui abbiamo la mochetta all'interno qua abbiamo il pezzettino che serve per tenere su il baule posteriore come nella vera perfetto e adesso andiamo a smontare per farvi vedere i freni a disco all'interno cosa non è questo modello oppla galletti sempre col timbro all'interno le ruote le andiamo a vedere poi nel dettaglio lo fate già vedere ma sono sempre belle da vedere di nuovo ecco qua ragazzi guardate guardate abbiamo la pinza il tubo di rame e la pinza dei freni l'ammortizzatore di ritorno per evitare appunto come nelle auto vere che ci sia un ritorno brusco dell'ammortizzatore quando rimane libero questo praticamente dentro ha dell'olio e frena questo movimento di ritorno tac ok va bene questa è un'altra cosa guardate le balestre che meraviglia disco montiamo questa ruota poi vi faccio vedere l'altra bene nel dettaglio e così ragazzi facciamo solo un filmato e poi l'altra come vi ho già detto per me sarebbe stato meglio farne un altro filmato perché noi che facciamo abbiamo il canale youtube sto avvitando con la sinistra sono destra magari faccio così che faccio prima va noi che abbiamo appunto canali youtube è molto importante sono molto importante le iscrizioni molti guardano i video e non ritengono opportuni iscriversi ma noi viviamo con le iscrizioni ragazzi non solo con le visualizzazioni il numero di iscritti è importante a voi non costa nulla ovvio se vi piacciono i filmati ci mancherebbe i contenuti io anche la playlist come tanti di noi date un'occhiata alla playlist perché ci possono essere sopra delle cose molto interessanti anche altrettanto interessanti come queste magari a tema quindi date un'occhiata ragazzi e comunque se deciderete di iscrivervi e io vi ringrazio con il cuore perché mi aiuterete a mantenere sempre questo progetto vivo sempre di più e non farlo morire e se attivate la campanella sarete aggiornati su ogni mio nuovo video adesso andiamo infine a smontare il galletto anteriore diamo un'occhiata anche questa parte anteriore sotto guardate il fuoco dai dai mettiti bene come immagine ecco qua ragazzi guardate ammortizzatori freno a disco tubi di rame vedo un occhio di fili blu gialli rame di tutto c'è di tutto questo ovviamente è il tubo per l'area anteriore si prende appunto qua e che porta per il raffreddamento del motore va bene ragazzi vi faccio solo vedere più nel dettaglio la ruota le ruote sono in alluminio alluminio non plastica curata alluminio con i raggi che vengono infilati uno per uno nei fori con un che è un filo d'acciaio un filo d'acciaio chiaramente in scala 1 a 18 e funge da raggio guardate che lavoro la valvola per il gonfiaggio il battistrada e poi tutte le sigle in questo caso c'è scritto michelin aspettate un attimo che vi leggo tutto se ce la faccio ecco qua vediamo meglio la mia lentina allora qua c'è scritto michelin 215 barra 70 v r 15 90 w e 2 0 2 5 5 5 4 vi leggo tutto radial x made in france poi c'è scritto dotte ragazzi dotte tra la parentesi f h poi 34 d 0 9 x 5 2 0 0 x w x tubeless io ho letto tutto ragazzi ok allora rimontiamo e magari qualcuno curioso c'è io sono molto curioso magari qualcuno tra di voi curioso c'è e sicuramente sa anche dare il giusto significato a tutto è ovvio che il dot dovrebbe essere la data in cui vengono appunto prodotti preumatici le misure chiaramente del pneumatico il modello chiaramente lo sterzo è funzionante eh guardate lo sterzo dentro che lo muovo la ruota vedete ok ragazzi allora vi ho fatto vedere tutto questa è la rossa vi do vi faccio vedere anche dare una rapid'occhiata a questa ma è poi la stessa cambiano chiaramente gli interni dove nella gialla sono neri e qui abbiamo il color kaki tutto in pelle ah ecco qua le vedete le doppie qui vedete le all'interno le cinture di sicurezza tutte in pelle con i ganci i ragazzi chiusi come le cinture vere meraviglioso il motore è lo stesso eh guardate lo stesso di quello di prima ovviamente ho detto una cosa scontata lo so ragazzi ve la faccio solo vedere un attimo così e poi possiamo salutarci ah no vi voglio fare vedere il peso il peso è veramente una macchina meravigliosa ragazzi cosa si può dire se non questo allora vediamo il peso in chili ovviamente per i nostri amici inglesi e americani in libre una piccola curiosità allora mettiamo questo che si veda più giù così lo vedete bene accendiamo ok è a zero si andiamo a vedere 848 grammi in libre leggete voi ragazzi perché lo sapete leggere meglio io vi dico cosa leggo uno due punti 13.9 mettiamo in chili 848 beh presumibilmente essendo identici i modelli al di là del colore dovrebbe pesare 848 anche questo 852 vabbè ragazzi 4 grammi va bene adesso li mettiamo tutti e tre vicini no no ho detto bene tutti e tre vicini cioè questi due che sono la ferrari 250 gt perlinetta passo corto svb del 61 insieme arrivo è insieme alla ferrari 250 gt perlinetta passo corto svb sempre del 61 ma da competizione quindi per capirci quella che ha 40 cavalli in più cioè questa vedete adesso poi vi faccio vedere una rapida differenza 40 cavalli in più quindi 280 cavalli il telaio il telaio chiedo scusa la carrozzeria in alluminio ecco ecco